Pronti? Pronti? Calici! 40 secondi, sta per andare via un anno, mi è seri uomo nuovo! Io so cosa mi porterà! Gli ultimi 20 secondi nel 2013, arriva il 2014, auguri a tutti voi, buon anno, sta per arrivare, attenzione! Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, un'ora! Bravo! Bravo! Per 2014, giorni felici a tutti voi! Per 2014, da Churmaier con Santa in sangue, la Val d'Aosta! Giorni felici! Buon anno! Buon anno! Buon anno a tutti. Buon anno. Buon anno. Amuri, buon anno. Andate forte. Buon anno. Amuri. 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 Buon anno. Andate forte. Buon anno. Buon anno. Buon 2014. Danno di serenità e di salute. Galleria, che soia. Emanuele Giovannini. Leopoldo Siano. Emanuele Giovannini. 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 liberate questo palcoscenico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti